Strumenti, abbiamo affrontato il concetto dell'ausilio dello strumento per poterci facilitare la comunicazione col cavallo, perché il cavallo percepisce lo strumento, ne interpreta la funzione e reagisce a uno stimolo. Ok? Qui è esattamente la stessa cosa. Quindi, io sono qua che pari al telefono, lui arriva e tenta di colpirmi, la mia reazione diventa questa. Già qui ho ristabilito l'equilibrio. Questa è la sua reazione. Vedete lo spazio? Come diventa? Ok. Vedete che qui ho un bersaglio, nonostante la mia azione sia concentrata qua? Il terreno va usato perché io lo porto sempre attento, perché il terreno nella difesa personale è fondamentale, poi ricerce l'inito. Chi attacca non pensa di poter essere atteggiato. Cade, non sa cadere, si fa male, ha bisogno di capire cosa succede, deve rialzarsi, valutare i danni. Io sono già andato a casa. Ok? Se non lo porto giusto, sono costretto a combattere. E' ancora, e' ancora. Io devo disinnescare nel meno tempo possibile. Lui attacca, io ho il telefono in mano. Figolo, tempia, mandibola, orecchio. Colpisco, colpisco, colpisco sulle mani. E' una parte dura, ok? Questo. Qui le dita vuole la mano, è fatta da tante ossa piccole, si catturano facilmente. Il 90% dell'azione d'aggressione è fatta a carico della mano. Io rompo la mano, l'azione si interrompe. Perché non ha più mezzi per poter continuare. Quindi è inutile ingaggiare un combattimento. bambam, bambam, il busto, magari quello c'ha il giacchetto, lui attacca, io attacco, e cerco di buttarlo giù. No. Lui attacca, io attacco e punto più vicino a me. Bambam. Rompo la mano. C'è un'altra. Attacca. Bambam. Rompo anche l'altra. Qualcosa continua. Fine. Strategia. Strategia. Interrompe. Con le gambe ti spezzano anche le gambiline. la Sabrina è terminator intergiunta dell'azione nel minor tempo possibile intergiunta dell'azione nel minor tempo possibile tenta di affettare i giornali io ando le vedo scappo io ando le vedo scappo tenta questo se è forte io non posso pensare di liberarmi così ma nemmeno io con lui ce la faccio non posso pensare di lavorare sulla sua parte forte con la mia parte quanto meno mi fa l'energia mi avvicino a lui vuoto lascio fermo il punto di presa ci giro io insieme non mi sono mosso se lo fa lui lui ce lo vedi da questa vita